e baba che dice xxxl è illegale un po' perchè fa puzza un po' perchè fa male ad ogni colpo di tosse ti scoppia un capillare e baba che dice resista in analogico la roba digitale non ti agitare se cerchi il nostro videoclip hai sbagliato canale questa è la nuova merda zero hit la new shit sopra i beat e baba che dice su 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 anche casa anche in macchina chi ci sente in piedi fermatevi scendete fate su su fate su fate su quando sentite questa roba fate su fate su quando mi vedete a giro fate su anche in macchina in piedi fermatevi scendetevi fate su e se in binum veritas acilum medita e chi a giro senza casa merita una dedica merita un attacca con divisione però la chiave per il nuovo mondo rega siete d'accordo nada a pisco i missiloni appiccio il bong e vado giù ma non finisce qui se questa roba tiene unite le nazioni più di un king ancora xxxl fatti duri sul ring e baba che dice su 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 anche a casa anche in macchina chi ci sente in piedi fermatevi scendete fate su su fate su fate su quando sentite questa roba fate su fate su quando mi vedete a giro fate su fate su anche in macchina in piedi fermatevi scendete fate su chico chico viveva in un costante stato di disordine proiezione forse del suo manicomio mentale su 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 anche in macchina chi ci sente i piedi fermatevi scendete fate su 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 oh baba che dice fate su su suuuu suuuu buon paio buon paio buon paio